Le cose non cambieranno mai. Avete fatto bene ad andarvene dalla Sicilia. Forse è proprio il momento di tornare invece. La parola chiave è raccogliere informazioni. Questo sarà uno dei nostri compiti. E dagli amici che bisogna guardarsi le spalle. Soprattutto dai suoi. Sì, Giuliano, andiamo noi, siamo in zona. La verità è che vogliono ritorne tutto al silenzio. Perché io non ti posso chiedere di rinunciare, di rinunciare, di rinunciare, di rinunciare, di rinunciare! Il commissario Giuliano morirà. Boris Giuliano, il 23 e 24 maggio alle 21 e 20 su Rai 1.